Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sta finendo Roma-Milan, ha segnato lo testo del Sarawi, quindi è il risultato su 2-1, gol di Ibra, calcio pulizio che è perfetto, calcio di rigore, oddio, che è successo? Niente. Calcio di rigore, che trasforma che sì, 2-0, adesso l'ha riaperta, diciamo, Sarawi, ma sono anche con un uomo in meno, che è stato espulso da Hernandez, quindi seguiamo insieme gli ultimi due minuti, vediamo cosa succede, oggi è baronda di partite, Napoli che vince con la Salernitana 1-0, due espulsi, uno da una parte e uno dall'altra, poi Sassuolo che perde con l'Empol è l'ultimo secondo, oddio, che parata, che bravo, poi c'è giocato pure Genoa, l'altro, scusate non mi ricordo perché oggi ero un po' a editare video di un altro canale che non è mio, proprio hanno chiesto di aiutare, quindi vediamo, oddio, no, levala, così perdono, questi cercano sempre il rigore, è una cosa incredibile, manca poco, dai, poi domani ci sarà l'ultima Monday Night, oddio, levala, manca un minuto, succederà come l'Atalanta Lazio, vediamo, avete visto il posto di lei, no, rie, ti violevala, dietela, dietela, vai, non te ferma, non te ferma, vattene a cacciato munizione, bravo, vedi, dare atta a me, manca poco ragazzi, alla vittoria, e quando vedo io sempre l'altra sponda perde sempre, non ha vinto big match, mi mettete conto, adoro, no, che se deve tagliare, no, no, è tutto a posto, tutto a posto, dai che manca poco, puoi fischiare, 5, 4, 3, 2, 1, fischia, fischia, ha dato 67 minuti, oddio, non finisce più, ma state zitto, Murigno, state zitto, che fai più bella figura, falso, quanti big match hai vinto, dai, allora è 4, è 3, è 2, è 1, c'è una munizione ragazzi, a bere tu, c'è un, una munizione a bere tu, ah è finita, e col cuore lo sai che ci fa, per lui ci fa, si fa da un culo, ti vediamo domani ragazzi, per parlare un po' di tutta la serie, a bere tu, ah è finita,